E' subito Riccardo Usai al comando, il bravo atleta a Seminese in forza all'atletica Valeria, Andrea e Riccardo, i due talentini di decima mano. Quindi Riccardo, Andrea Usai, Danilo Licchieri, Alberto Satta, ecco questa è la finale dei metri mille. Come giovanissimo talento Riccardo Usai, ricordiamo quest'anno questo bravo atleta si è giuntato le convintie di nazionali, il titolo nazionale di distrutti dei convinti nazionali in Italia. Ecco Riccardo Usai, Danilo Licchieri. Via ragazzi! Di Alessandro Moro che è passato in quarta posizione. Riccardo Usai che ormai, vedete, decisamente cambia ritmo. Ed è lui, mentre Andrea Usai è sempre in seconda posizione. Allora Riccardo, coraggio, vai a chiudere molto bene. Grazie a tutti i tempi 40 metri, via, 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 ancora tutti i tempi, vai. Grazie a tutti, grazie a tutti. Grazie a tutti, grazie a tutti. Dai Andrea, vai. E un po' sui. Ed è Alessandro Moro, Alessandro. All'欸clavo. Grazie a tutti.